Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 196esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa come potete vedere se già mi seguite su YouTube in una puntata video del podcast, quindi oltre ad ascoltare la mia voce potete vedere il mio bel faccino e potete vedere le notizie che di volta in volta vado a commentare, quindi con immagini, screenshot e quant'altro, insomma. Qualora non l'aveste ancora fatto io vi invito a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcosbox, mi trovate cercando Marcosbox, quello del pacco, Marco Giannini, insomma mi trovate con diverse query di ricerca su YouTube. Iscrivetevi numerosi, mettete tanti bei mi piace e aiutate a far crescere il canale, perché nel canale non pubblico poi soltanto le puntate del podcast di Marcosbox, ma pubblico anche recensioni di software, anche prodotti hardware quando capita. Insomma, è un complemento al blog e se mi volete supportare sapete come fare. Mi piace, condivisioni, anzi e soprattutto iscrizioni, perché sto vedendo che la maggior parte di chi visualizza i video su YouTube, del canale YouTube di Marcosbox non è iscritto al canale, ben nel 80% che non è iscritto al canale, quindi forza con l'iscrizione, a voi non vi costa niente, a me, per me, significa tanto. Ma apriamo questa puntata e ci riallacciamo all'argomento di cui ci eravamo lasciati la settimana scorsa. La settimana scorsa vi avevo parlato della nascita di una nuova distribuzione, di un nuovo progetto di KDE, ovvero la nascita di KDE Linux, una distribuzione immutabile, una nuova distribuzione immutabile, pensata per offrire agli utenti una distro per l'utilizzo quotidiana, ma anche per gli sviluppatori, incentrata sulle ultime tecnologie, che offre KDE nella sua, diciamo così, purezza. È una notizia che è stata colta bene da tutti quanti, moltissimi si sono detti entusiasti di questa nuova distribuzione, che andrà praticamente a sostituirsi a KDE Neon, quasi sicuramente, nel prossimo periodo. Ed è una cosa che, come dicevo, ha suscitato interesse perché tutti quanti cerchiamo da tempo una distribuzione con KDE puro. E ovviamente anche la controparte con GNOME non si è lasciata scappare questa occasione per annunciare il suo nuovo progetto. O meglio, un progetto che già esisteva, che però è stato riportato, che verrà riportato in auge da parte di uno sviluppatore di GNOME, che ha deciso di dare nuova linfa a questo progetto. Sto parlando di GNOME OS. GNOME OS esiste ormai da diverso tempo ed è una distribuzione interna di GNOME destinata al test e allo sviluppo di GNOME. Quindi non è una distribuzione pensata per l'utilizzo quotidiano. Però c'è uno sviluppatore di GNOME, tale Adrian Wolf, che, spero di aver pronunciato correttamente il suo cognome, dicevo che dopo aver visto l'annuncio di KDE Linux, ha detto che siamo fessi noi che non facciamo la stessa cosa. E ha deciso di dedicarsi nel prossimo futuro a NimeCorp, a un nuovo progetto, a dare nuova vita a GNOME OS, per rendere GNOME OS una distribuzione buona, pronta per l'utilizzo quotidiano. Adrian Wolf ha già un background nello sviluppo di distribuzioni Linux, infatti in passato ha portato avanti un progetto chiamato Carbon OS, che era basato anche lui su GNOME. E adesso vuole utilizzare tutte le sue conoscenze maturate in questo progetto per GNOME OS. GNOME OS, il nuovo GNOME OS, sarà un sistema operativo immutabile, ovviamente, perché ormai vanno di moda le distribuzioni immutabili, sarà basato ovviamente su GNOME, per avere l'ultimissima versione di GNOME, e per le applicazioni si affederà a Flattopack, quindi utilizzerà questo formato per la distribuzione delle applicazioni, che è sempre cosa buona e giusta. Che dire, io faccio tanti in bocca al gruppo a Adrian Wolf che non vedo l'ora di mettere mano su questa distribuzione, così come non vedo l'ora di mettere mano su KDE Linux, perché per me, come ho già detto diverse volte, c'è la necessità di avere una distribuzione ufficiale, perché sì, perché bisogna vedere com'è una distribuzione, com'è un desktop environment pensato dagli sviluppatori, e quindi avere una cosa tutta bella pulita, con tutti i settaggi, non stravolta e quant'altro, aiuta noi, aiuta anche poi gli sviluppatori magari a portare avanti il progetto, a portare avanti meglio il desktop environment, quindi è un win-win per tutti quanti. E oh, datemi subito queste iso che me la installo. Passiamo adesso ad un'altra notizia, restando sempre in tema KDE e tema GNOME, una notizia importante che arriva da Fedora. Vi ricordate lo scorso 2 aprile? La notizia è stata proprio il 2 aprile per evitare fraintentimenti, secondo me, con il primo di aprile, perché molti avevano pensato a un pesce d'aprile per quella notizia. Dicevo, lo scorso 2 aprile è stata postata una notizia, un team di sviluppatori, utenti e quant'altro di Fedora aveva presentato una proposta per far rendere KDE Plasma il desktop environment predefinito di Fedora, abbandonando quindi GNOME, che storicamente è il desktop environment di Fedora. Questa proposta non è stata accettata, ovviamente, perché sarebbe stato un sacri gage, sarebbero state rivolte di piazza e quant'altro. Però si è avuto una cosa intermedia. Perché? Perché qualche giorno fa si è votato il Fedora Consig, dopo un'ampia discussione, ha accettato all'unanimità una proposta intermedia che consente di elevare al rango di edition l'edizione, la spin di Fedora KDE desktop. Che cosa significa che adesso Fedora KDE desktop è un edition? Significa che adesso è messa sullo stesso piano di Fedora GNOME. Quindi adesso avremo, a partire da Fedora Linux 42, da Fedora Linux 42, avremo l'edizione GNOME e l'edizione KDE sullo stesso piano, che verranno pubblicizzate in ugual modo sul sito ufficiale di Fedora Project. Avranno tutte e due la pagina dedicata con le caratteristiche in primo piano. e inoltre, durante le manifestazioni, durante gli eventi e quant'altro, sia l'edizione con GLOME che l'edizione con KDE avranno, diciamo così, pari sponsorizzazioni a livello di marketing durante gli eventi. Quindi, dove in avanti, a partire da Fedora 42, potremmo dire di utilizzare l'edizione con KDE senza vergognarci. Perché dico senza vergognarci? Perché in passato, non so se vi ricordavate, l'edizione con KDE di Fedora non è che andava così tanto bene. Era stata un po' messa da parte. Fortunatamente, nel corso degli ultimi anni, c'è stato un insieme di sviluppatori che si sono dedicati a Anime Corp all'edizione con KDE desktop di Fedora e l'hanno resa molto popolare, l'hanno migliorata in termini di stabilità e quant'altro. E devo essere riuscito, ho diversi di voi lettori che utilizzano Fedora, KDE e desktop come distribuzione principale e come distribuzione lo utilizzano anche da amanti di KDE e dicono tutti quanti che è una roccia in termini di stabilità. E io ci credo. Adesso abbiamo avuto la dimostrazione anche da parte del team di sviluppo di Fedora che, mettendole di pari sullo stesso piano, l'edizione del nome con quella KDE, hanno certificato la bontà della listro. Quindi, appuntamento per Fedora42 per vedere pubblicizzate sul sito di Fedora. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. E cambiamo desktop environment e parliamo adesso di Cinnamon, il desktop environment di Linux Mint. Come ben saprete, ogni fine mese, Clemente Lefebbre pubblica un post che ci pare un po' dello sviluppo di Linux Mint, ma anche di Cinnamon. E questo mese ci va a introdurre due cose, due novità interessanti, due novità dal punto di vista grafico. La prima novità riguarda l'introduzione della funzionalità Night Light all'interno di Cinnamon in maniera nativa. Che cos'è questa funzionalità? Praticamente è la funzionalità che vi serve a ridurre il quantitativo di luce blu emessa dallo schermo per rendere il correre del monitor più caldo man mano che ci si avvicina all'ora di andare a letto. E questo, a detta degli esperti, ci aiuta a ridurre sia l'affaticamento agli occhi, ma anche a migliorare la qualità del sonno. In passato questa funzionalità era presente già su Linux Mint ed era attiva grazie a un tool di terze parti, ovvero grazie a Redshift. Però Redshift non è integrato con le impostazioni, funzionava soltanto su X.org ed era configurato automaticamente da GeoCrew che adesso non è più funzionale. Siccome anche Cinnamon si sta rivolgendo a Weyland per le prossime versioni e si sta proiettando anche lui verso Weyland, siccome adesso, negli ultimi tempi, gli è partita la fregola di fare praticamente tutto quanto in casa, di forcare tutto quanto in casa, hanno deciso, finalmente dico io, di integrare la funzione Nightlight direttamente in Cinnamon e di renderla quindi compatibile sia con X.org che con Weyland. Quindi nella prossima versione potremo avere questa funzionalità nativa all'interno delle impostazioni. Poi un'altra novità riguardante le prossime versioni di Cinnamon riguarda il restyling delle finestre di dialogo di Cinnamon con un nuovo layout grafico, con pulsanti più chiari, con meglio contrastati, che mi ricordano leggermente il gnome share dei primi tempi, diciamo, se proprio quelli sono le palette cromatiche, anche la forma dei pulsanti, mi ricorda molto i cookie feed delle prime versioni di gnome. Se mi state vedendo tramite YouTube, vi faccio vedere qui alcuni screenshot. Se invece mi state ascoltando soltanto tramite il podcast in forma vocale, vi invito ad andare sulle pagine del blog per andare a vedere gli screenshot che sono stati postati dove vi faccio vedere quali sono le novità grafiche delle finestre di dialogo. Mi piace però. Questo poi si unisce anche al lavoro che il team di Link Smith sta facendo per quanto riguarda il nuovo tema di default di Cinnamon. Speriamo di vederne delle belle, perché dal punto di vista grafico Cinnamon era rimasto parecchio indietro. e poi ci hanno parlato anche, chiaramente la febbre ci ha parlato anche di un'altra cosa interessante, ovvero la partnership che il team di Link Smith ha stipulato con Framework Computer. Framework Computer, li conoscete, sono quelli di quei computer portatili modulari che si possono facilmente aggiornare, staccate, riattaccate, quindi vi potete, anzi c'è anche la possibilità di avere i portatili in kit di montaggio che ve lo andranno smontati e voi ve lo andate a comporre, che è un progetto interessante, a me piacerebbe avere un computer, un Framework Computer. Dicevo, Linux Mint ha stipulato anche una partnership con Framework Computer, quindi ci si aspetta che la prossima versione di Linux Mint sia perfettamente compatibile con l'hardware offerto da Framework Computer. E fa piacere che siano riusciti a fare una cosa del genere. ha la faccia di tutti quelli che criticano sempre Linux Mint, criticano Cinnamon e quant'altro. Rosiconi. Ah, non so scherzare. No, però sì, sono un sacco di persone che non lo so perché devono sempre sparare su Cinnamon, sia su Cinnamon che su Linux Mint, come se fossero una schifezza della schifezza della schifezza, ma in realtà sono... Linux Mint è una bella distra soprattutto per chi si affaccia per la prima volta al mondo di Linux e anche Cinnamon. è un buon desktop environment, sì, bruttino dal punto di vista grafico, rimasto un po' indietro dal punto di vista grafico, anche se, come avete avuto modo di vedere, si stanno muovendo per migliorare, però è funzionale. Dai. io lo utilizzo Cinnamon sempre per tutti quanti quegli utenti che si avvicinano per la prima volta a Linux perché si trovano con un ambiente desktop confortevole e facile da utilizzare, quindi non sottovalutiamolo. E passiamo adesso ad un altro desktop environment che anche lui si sta ormai sta abbracciando la Weyland, sta amando Weyland come ho scritto nel titolo dell'articolo. È stata rilasciata la versione 2.1.0 di LXQT, il desktop environment leggero basato su LXQT. Questa nuova versione aggiunge il supporto a ben sette sessioni di Weyland, quindi praticamente adesso è compatibile con LabVC, con K-Win, con Weyfire, Hyperland, Zwei, River e Niri. Quindi chi più ne ha più ne metta. C'è un supporto a 360 gradi, a voi la scelta di quale utilizzare. Quindi è stata migliorata naturalmente l'integrazione con i vari compositori, tutto funziona in maniera più fluida su LXQT, è stato aggiornato anche il file manager PCMAN FM QT che ha ricevuto aggiornamenti tra cui supporto per desktop multischermo e la traslucenza sotto Weyland. In un'altra sono state anche apportate numerose correzioni e miglioramenti minori che ottimizzano l'usabilità complessiva del sistema. Vengo a vedere che è un desktop environment diciamo così minore perché non è tanto non è largamente utilizzato è bello vedere che anche un progetto come questo ormai sia attivo e sia proiettato nel futuro dell'offerto da Weyland. Ormai ci dobbiamo rassegnare il futuro e Weyland e tutti quanti i desktop environment e tutti quanti i registro ormai lo stanno abbracciando con tanta 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 pazienza per noi utenti per noi utenti Nvidia che sapete bene non funzionano proprio perfettamente le cose con con Nvidia e Weyland Weyland e Nvidia mi dicano un po' tradigo però anche in questo caso sembra che le cose miglioreranno nel prossimo anzi nell'imminente futuro e passiamo adesso a una notizia che mi ha molto colpito mi ha molto colpito perché non è la prima volta che che succede e che mi sta facendo un po' preoccupare circa lo sviluppo circa il futuro del circa il futuro di Mozilla e del futuro di di Firefox la Mozilla Foundation ha annunciato il taglio un altro taglio del personale ha licenziato il 30% del personale quindi sono praticamente 60 dipendenti e ha deciso di abbandonare la divisione advocacy questo fa parte del nuovo corso che il nuovo CEO di della Mozilla Foundation vi metto il link dove cavolo stava l'ho messo qua l'ho messo qui che serve Mitchell Bucker anzi scusate Laura Chambers Mitchell Park era quello vecchio Laura Chambers che ha deciso di diciamo così cambiare la strategia aziendale di Firefox in maniera prorompente perché praticamente sta tagliando sta tagliando tantissimo sul personale sta tagliando tantissimi rani secchi di servizi e funzionalità che non non sono redditizie pare che adesso la Mozilla Foundation voglia concentrarsi maggiormente su Firefox Mobile investire di più nell'intelligenza artificiale Mozilla mira addirittura a costruire strumenti di intelligenza artificiale affidabili e prevede di integrare queste nuove funzionalità direttamente in Firefox a breve perché ormai è inutile che lo fa fra un anno queste cose anzi andavano fatte ieri se proprio le vuoi fare quindi si sono un po' svegliati tardi su queste cose e anche loro sono saliti su carriazione dell'intelligenza artificiale vogliono sfruttare anche le recenti acquisizioni come FakeSpot che è il servizio che ci consente di individuare recensioni false su web vogliono puntare ci sono vogliono puntare sulla VPN di Mozilla insomma stanno ci stanno concentrando su quelle e si stanno concentrando oi me per quanto riguarda la pubblicità digitale di questo ve ne avevo parlato lo scorso ottobre perché Laura Chambers ha deciso di investire nel settore della della pubblicità digitale acquisendo una società che si occupa di queste cose che promette di fare diciamo così una proficazione degli utenti più rispettosa della privacy e che quindi si rivolge a tutti quanti quegli utenti anzi quegli aziende interessate sia a proficare gli utenti però a farlo nel rispetto degli utenti non so fino a che punto tutta questa foglia potrà andare avanti e ci sono state anche delle ripercussioni negative perché Mozilla si è beccata anche una denuncia recentemente per quanto riguarda queste nuove funzionalità di di tracciamento che sono state introdotte all'interno del browser ve ne avevo parlato lo scorso settembre che Noib aveva presentato una denuncia con Mozilla per per aver silenziosamente abilitato su Firefox la funzionalità chiamata privacy preserving attribution che vi avevo detto serve appunto per fare questa questa proficazione sandbox degli utenti all'interno di di Firefox che non lo so mi fa ridere anche proficazione sandbox che però i dati vengono comunque utilizzati per vendere servizi pubblicitari lo so lo trovo un po' uno simo vabbè insomma perché mi sto preoccupando perché mi sto preoccupando perché come vedete ci sono taglie personale questa è la seconda volta che vengono annunciati taglie personale nel corso dell'ultimo anno qui potete vedere quanto è stata l'ultima volta che c'è stata a febbraio all'inizio anno no da l'altra parte ecco qua si si a febbraio è stato annunciato il primo taglio personale questo è il secondo taglio personale che viene fatto nel giro di un anno mozilla sta continuando a integrare queste funzionalità di intelligenza artificiale che nessuno vuole tutte queste funzionalità di profilazione che nessuno vuole quindi sta sta redendo la fiducia degli utenti firefox che sapete bene sono utenti più attenti alla privacy quindi non vedono di buon occhio tutte queste tutte queste 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 profilazioni tutte queste cose che noi utenti attenti alla privacy cerchiamo di evitare come la peste e più perché mi sto preoccupando mi sto preoccupando perché ve ne avevo parlato lo scorso agosto c'è stata una sentenza storica negli USA Google è stata additata come monopolista e che cosa significa monopolista significa che potrebbe 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 diciamo così far dividere questa sentenza potrebbe portare la scissione di alfabet in più società e che cosa succede se alfabet viene scissi in più società che probabilmente non farà nemmeno più non si interesserà più nemmeno Google di fare accordi con terzi per evitare di essere additata come monopolista perché dico questo perché per via della normativa statunitense Google separate il sederino un po' in tutti questi anni da eventuali cause di che potevano attribuire il fatto di essere un monopolista all'interno del mercato e come si è parato il sederino si è parato il sederino pagando di fatto società come la mozilla fondazioni come la mozilla foundation per poter avere Google come motore di ricerca all'interno di firefox in modo tale da poter dire davanti all'autorità ai grangioli e quant'altro signori sono innocente io non sono monopolista qui c'è anche firefox c'è anche mozilla che magari un giorno potrebbe diventare il nuovo potrebbe prendere il mio posto e diventare la società più grande insomma non sono monopolista perché c'è lì quindi io sono innocente anche se io c'ho il 99% diciamo così del mercato dei browser però c'è qualcun percento di quello quindi io non sono monopolista e quindi di fatto questo accordo ha mantenuto artificiosamente in vita mozilla con tanti belisghi che gli hanno consentito nel corso degli anni di poter andare avanti alla fondazione mozilla e come vi dicevo c'è stata questa 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 sentenza adesso è stata ditata come monopolista google e quindi potrebbe avere ripercussioni sulle finanze di mozilla e la situazione per mozilla è bruttissima ci stanno succedendo tutte le cose che non dovrebbero succedere cioè possibilità di perdere denaro sviluppatori che vengono licenziati funzionati personalità invasive per la privacy che vengono aggiunte al browser io mi sto iniziando a guardare un po' attorno sebbene sia un utente di firefox da tempo in memoria dai tempi di internet explorer perché quando tutti quanti utilizzavano internet explorer io già utilizzavo le prime versioni di firefox e sono sempre stato affessionato da firefox però adesso sto vedendo che le cose non stanno andando per il verso giusto e mi preoccupa questa cosa speriamo speriamo che non succeda un patatrack per Mozilla fra l'altro poi vi ricordavate mi avevo postato anche qualche tempo fa un'altra notizia riguardante l'adozione di Mozilla all'interno degli Stati Uniti del fatto che avendo percentuali basse le società statunitensi non erano più quelle che lavoravano con diciamo così con con gli enti governativi americani non erano più obbligate a supportare a fare test di funzionalità di supporto su su firefox e firefox si sta si sta ormai avvicinando a quella storia critica un attimo se riesco a ritrovare subito la notizia vediamo come Firefox stati uniti vediamo se la trovo così con la query da quando ho cambiato il template da quando ho cambiato il sito faccio fatica ecco no no l'ho trovato subito ecco qua la notizia di cui vi parlavo il declino di Firefox potrebbe accelerare per via del governo americano datevi a leggere quel vecchio articolo che è stato postato a dicembre del 2023 e insomma cioè nell'ultimo anno gli sta andando tutto male a Mozilla stanno facendo una serie di cretinate non appresso all'alto e come vi dicevo io temo per il futuro di Mozilla fatemi sapere voi che cosa ne pensate se anche voi siete della mia stessa opinione e secondo voi invece oppure secondo voi che te ne fotte e continui a utilizzare Firefox fin quando c'è poi si pensa a Babbo Morto a quale browser migrare però io mi sto già iniziando a guardare intorno ahimè non faccio tanto affidamento sui browser basati su Firefox perché appunto se muore Firefox è inutile che mi vado a installare a seguire Libre Wolf o quant'altro perché alla fine sono anche questi browser che sono derivati che si basano su Firefox campano grazie a Google di fatto perché Google finanza Mozilla che finanza i supporti Firefox che a loro volta viene utilizzato come base per fare Libre Wolf e quant'altro quindi alla fine anche voi che state utilizzando Libre Wolf in realtà state utilizzando gli sghedi di Google indirettamente quindi approvate le politiche di Google approvate anche le politiche di Mozilla fatevi una domanda io mi sto orientando un po' su Brave ultimamente e sto vedendo anche con Vivaldi sto cercando di decidere tra i due quale dei due potrebbe essere una valida alternativa Brave lo sto utilizzando anche da smartphone è comodo che ha il fatto del blocco della pubblicità integrato così come Vivaldi tra i due tra Vivaldi e Brave ho una leggera preferenza per Brave soltanto perché Brave si tutta quella porcheria delle criptovalute però ha meno funzionalità aggiuntive che gli sono state messe a caso tipo perché Vivaldi è pieno di cose cioè ci hanno messo un client quindi ci hanno messo un'altra funzionalità che introducono ogni volta sarebbe bello avere soltanto un browser che fa i browser affatto bene si lo so sono tutte e due basate su su Chromium è cosa è cosa brutta però come vi dicevo non la vedo rosa per Mozilla quindi il piano B è sempre dietro l'anco vabbè dopo tutto questo pippone su Mozilla cambiamo cambiamo registro e parliamo di GIMP parliamo di GIMP con una notizia importantissima perché è stata finalmente rilasciata la release candidate uno di GIMP 3.0 l'aspettavamo da tantissimo tempo tutti quanti volevamo metterci su le manine tra le principali novità di questa nuova versione di GIMP troviamo novità grafiche che vanno sia dal nuovo logo dalla nuova icona creata da Ariom una nuova schermata di avvio ridisegnata che sono cose minori però fanno anche fanno parte dell'esperienza utente di GIMP è stato grazie a porting le GTK3 le icone dell'interfaccia utente adesso si adettano meglio agli schermi HIDPI è stata migliorata la gestione del colore sono state aggiornate le API pubbliche rendendo più facile per gli sviluppatori di script e plugin di adattare i loro lavori alla nuova versione ed è stata fatta anche la funzionalità è stata introdotta la funzionalità per avere dei filtri non distruttivi che è una cosa che richiesta a gran voce da diversi anni e finalmente è stata introdotta cioè comunque la possibilità di tornare indietro al flusso di lavoro distruttivo se preferite non ho capito ancora perché uno dovrebbe preferire il flusso di lavoro distruttivo a quello non distruttivo magari se voi siete bravi con la grafica e lavorate molto con GIMM fatemi sapere perché uno dovrebbe fare una cosa del genere è stato migliorato il motore di gestione del colore c'è stato il supporto a weekend è stata aggiornata la versione per macOS insomma finalmente finalmente è stato rilasciato e finalmente possiamo provarla possiamo provarla su Windows su Mac e su Linux su Linux la possiamo provare sia in formato flat pack che in formato snap di questo non ve ne avevo parlato sulle pagine del blog di questa cosa perché ho detto ma lasciamo la scopiare loro non sto scherzando qui trovate allora se andate sulla pagina su Green Card Download faccio vedere c'è il diciamo così il pacchetto di GIMM in formato flat pack poi ve lo scaricate lo andate a eseguire qui c'è il comando per poterlo eseguire e avete questa versione del RC1 sul vostro sistema se invece siete amanti del formato snap vi faccio vedere che se io cerco snap store allora contro le tue impostazioni scusate ma stavo da anonimo qui perché sennò poi mi escono tutte le cosine che voi non dovete vedere e cerchiamo GIMM e vi faccio vedere che tra brand se io ho utilizzato prima la versione questa qua del RC1 era già stata caricata da qualche giorno su 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 sullo snap store se vedete qui è possibile installarlo tramite questo comando studio snap install GIMM e postate il canale preview stable è possibile installarlo dicevo la versione RC1 direttamente su tutte quante le distribuzioni che utilizzano snap quindi ubuntu ubuntu e ubuntu anche mangiare e altre distribuzioni utilizzano snap come formato di pacchetti quindi fate gli scherzi il formato snap è utile è anche utilissima questa cosa che è possibile switchare rapidamente tra un canale e l'altro quindi la versione stabile alla versione di sviluppo con un piccolo comandino mi piace molto questa cosa comunque vi dicevo non avete scusa adesso correte a provare correte a installarvi la versione la RC1 di GIMM perché lo potete installare su qualsiasi sistema operativo su qualsiasi distro e con qualsiasi formato di pacchetti ma la domanda che tutti quanti ci facciamo adesso è quando verrà rilasciata la versione stabile di GIMM a breve di GIMM 3.0 a breve verrà rilasciata a breve non si sa quando però il team di sviluppo di GIMM si è sbilanciato nell'annuncio del rilascio della RC1 di GIMM 3.0 hanno fatto un commento e hanno detto che la versione 3.2 di GIMM è udito udite verrà rilasciata entro un anno dal rilascio finale di GIMM 3.0 quindi finalmente i sviluppatori di GIMM hanno deciso che devono un po' correre nel sviluppo del programma e quindi si sono prefissati questo importante obiettivo di rilasciare la 3.2 a un anno dal rilascio di GIMM 3.0 a sto punto il problema in GIMM in che anno verrà rilasciato la versione stabile di GIMM 3.0 vabbè scherzi a parte secondo me verrà rilasciata in tempo prima della fine dell'anno perché ho visto l'avvocante dice un po' con questa nuova versione di GIMM che non ci sono tanti bug anzi non ne ho trovati praticamente nessuno per adesso e sapete bene che io sono molto fortunato con i bug io li becco tutti quanti i bug quindi secondo me entro la fine dell'anno arriverà la versione stabile di GIMM perché ce la rilasceranno in occasione del Natale a modo di regalo quindi se questo dovesse avverarsi entro poi il 2025 entro la fine del 2025 avremo anche la nuova versione la 3.2 di GIMM ci fanno sapere poi gli sviluppatori di GIMM che verranno fatti rilasci più piccoli con poche grandi funzionalità che permetteranno agli sviluppatori di testare più a fondo ogni cambiamento e migliorare ultimamente la stabilità di ciascun rilascio quindi io ci credo ci credo questa volta nelle parole degli sviluppatori di GIMM sono fiducioso che riusciranno a mantenere queste promesse dai ultime due notizie di questa puntata del podcast che sta diventando lunghi perché mi sono diluncato in una maniera spropositata con Mozilla e che secondo me vi ho annoiato a molti di voi infatti vedrò poi mi divertirò ad analizzare le statistiche su youtube di quanti hanno schippato tutti i pipponi allora l'altra diciamo l'ultima due notizie di questa puntata riguarda uno il Raspberry Pi è errato una petizione che provate ve ne parlo Raspberry Pi ormai si è scatenata negli ultimi settimane negli ultimi mesi annunciato una serie di prodotti ve ne avevo parlato qualche settimana fa del nuovo vi avevo parlato del nuovo aggiornamento del sistema operativo anzi non ve ne ho parlato sulle pagine che vi avevo detto soltanto a voce ah si si vi avevo detto soltanto a voce dei nuovi prodotti che erano stati annunciati e adesso ne ho annunciato anche un altro prodotto interessante il Raspberry Pi USB 3.3 hub è un hub usb che viene venduto al prezzo di 12 dollari fa niente meno che fare l'hub usb quindi è la cosa più basicare del mondo che è anche una delle cose più utili che potete utilizzare uno degli accessori più utili che potete utilizzare sul vostro portatile perché l'andazzo degli ultimi anni è quello di mettere sempre meno porte usb e avere un hub usb con un moltiplicatore di porte può fare comodo e fa comodo tantissimo soprattutto se avete un raspberry pi quindi se avete un raspberry pi correte a comprare questo hub usb 3 ufficiale di raspberry pi se non avete un raspberry pi correte a comprare lo stesso perché per 12 dollari è un buon un buon dispositivo vi consente di avere 4 porti usb 3.0 a valle con una velocità di trasferimento dati aggregante fino a 5 gigabit per secondo e anche una diciamo così una porta aggiuntiva per un cavetto usb per alimentare questo hub con qualora volete collegare dei dispositivi più energivoli quindi come qualche harddisk meccanico e quant'altro quindi 12 dollari il prezzo per me è centrato poi è anche carino graficamente vi ripeto se avete un raspberry pi correte a comprare se non avete un raspberry pi avete un portatile correte a comprare lo stesso perché a quel prezzo prendete soltanto pacco taglia quella di dubbio provenienza asiatica e invece questo è un prodotto che è pensato per essere un prodotto di qualità e l'ultima notizia di questa puntata che è l'ultima notizia che ho postato venerdì venerdì pomeriggio è stata postata sul sul sito supportato del Parlamento europeo una proposta la petizione numero 0729 2024 quindi la petizione 729 del 2024 per chiedere all'Unione europea di sviluppare e implementare attivamente un sistema operativo basato su linux denominato EU linux nelle pubbliche amministrazioni di tutti gli stati membri dell'Unione europea questa iniziativa mira a ridurre la dipendenza dai prodotti microsoft che è sempre cosa buona e giusta garantendo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati il GDPR perché sapete bene che i nostri dati transitano per i server statunitensi e quindi ci sono sempre problemi per quanto riguarda il GDPR e promuovere la trasparenza la sostenibilità e la sovranità digitale all'interno del territorio dell'Unione europea io vado a fiamare e vi invito tutti quanti ad andare a fiamare così non abbiamo più scuse voi se siete pinguini di vecchia data come me sapete che il vostro sogno è quello di il sogno di tutti noi è quello di avere avere Linux come sistema operativo nella pubblica amministrazione ne parlo da anni di questa cosa che a mio avviso andrebbe fatta non soltanto per una questione puramente economica ma anche per una questione soprattutto per una questione di sicurezza di sovranità dei dati è una battaglia che porto avanti da anni parallelamente all'altra battaglia che porto da anni come sapete dei formati aperti perché quella sarebbe poi la svolta totale di consentire anzi di di normare l'utilizzo dei formati aperti all'interno della pubblica istituzione europea quindi tutti quanti dobbiamo utilizzare formati liberi e quindi buonanotte Microsoft quindi con i suoi prodotti commerciali buonanotte buonanotte anche ad altre software house che sviluppano formati proprietari che vanno a regarci con questi software ovviamente a mio avviso il modo per poterci sgregare completamente dalle multinazionali del software è quello di battere molto sui standard sui formati standard però anche in questo caso è una cosa molto importante l'aduzione di Linux all'interno del territorio europeo come fare però tutto sto sto sogno come realizzare concretamente sto sogno questo non ce l'ha detto il promotore di questa petizione perché si si è bello avere un sistema operativo Linux europeo però come lo finanziamo come su che base lo facciamo tanti interventi tante domande però da qualche cosa si deve pure iniziare iniziamo con con il proporlo al parlamento europeo una cosa del genere ma vediamo che magari da cosa nasce cosa mentre vi sto parlando siamo ci sono state fatte 893 voti a favore di questa di questa petizione pochissime pochissime mi aspettavo molti di più da quanto è stata postata evidentemente non è stata sufficientemente sponsorizzata e pubblicizzata sui vari siti che si occupano di 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 diffondere notizie dal mondo di Linux e software open source o forse siamo noi nel vecchio continente che non siamo tanto attivi come comunità forse è stata magari negli Stati Uniti ci sarebbe stata più partecipazione vabbè comunque fate una cosa facciamo un giochino se siete arrivati fino a questo punto sono le 22 e 21 di venerdì 8 novembre 2024 mentre sto registrando ci sono 893 voti a favore lasciate nei commenti magari l'ora in cui avete ascoltato questo questo pezzo del podcast e postatemi quanti supporter ci sono a quello in modo tale da fare una piccola statistica di vedere la crescita nel tempo di questa petizione facciamo questo giochino assieme che non vi costa nulla e con questa ultima notizia si conclude qui questa puntata del podcast di marcosbox io come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube come vi dicevo con il canale youtube di marcosbox mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting quindi apple podcast apple podcast spotify amazon music tutti quanti i vari servizi di podcaster di podcasting che sono sparsi per il web mi trovate su su castopod che è una realtà alternativa libera legata alla piattaforma di mastodon per per pubblicizzare i podcast mi trovate su linkedin con il mio profilo personale mi trovate su mastodon con il mio profilo personale posto principalmente le notizie dal mondo di linux e poi mi trovate soprattutto su telegram dove abbiamo il canale dedicato alle notizie di marcosbox che potete utilizzare anche a mod di feed reader se siete a reggici che feed reader e quindi in modo tale da rimanere sempre aggiornati con le notizie dal blog trovate poi la community telegram di marcosbox nella quale si parla di tutto non si parla soltanto di linux quindi non vi preoccupate non è monotematica non è noiosa e trovate poi un canale telegram dedicato alle offerte amazon quindi sapete come funziona io posto link affiliati ad amazon voi acquistate prodotti da quei link e amazon mi restituisce una piccola percentuale dato una botta al microfono volendo potete utilizzare anche il mio codice referral marcosbox 21 se siete più pratici se sapete come utilizzarlo se sapete come mettere altrimenti se volete supportarmi mi potete scrivere anche in privato non mi subate mai su telegram e mi chiedete di generarvi link refer e io ve lo genero in 448 infine vi ricordo che potete supportarmi anche abbonandovi o rinomando la vostra abbonamento su nordvpn in questo momento ci sono attive diverse proposte vediamo l'ultima proposta che è attiva in questo periodo facciamo l'anonimo così siamo sicuri che esce quella ultimissima allora attualmente c'è l'offerta del black friday su nordvpn quindi fino al 74% di sconto più 3 mesi extra praticamente vi viene a finire 2,99€ al mese l'abbonamento al nordvpn nordvpn e lo sapete oramai il servizio vpn più famoso e diffuso al mondo che vi garantisce server sparsi in tutto il mondo velocità elevate e vi garantisce anche funzionalità interessanti funzionalità aggiuntive come la threat protection come la possibilità di visualizzare tranquillamente i cataloghi di netflix e altri servizi di streaming senza problemi presenti nelle altre nazioni quindi non è come le altre vpn che magari danno problemi e la vpn può servire a diversi scopi quindi non è soltanto per chi per chi è attento alla privacy quando si connette negli aeroporti negli hotel e quant'altro ma vi può servire anche per essere più protetti anche durante la navigazione per avere anche un blocco delle pubblicità quando navigando insomma la vpn in generale serve per tantissime cose non soltanto per chi viaggia quindi fateci un pensierino io ripeto se dovete rinnovarla o dovete abbonarvi volete abbonare per la prima volta dal mio link affiliazione per poter supportare il blog e infine vi ricordo che potete anche supportare il blog acquistando uno dei prodotti della Geekom Geekom è un produttore di mini pc ad alte performance sono praticamente dei nook che sono molto potenti qui vi faccio vedere potete utilizzare potete acquistare uno degli ultimi prodotti per esempio c'è questo qua interessante con il Ryzen 9 e con il mio codice sconto GKMarco15 potete avere il 15% di sconto su uno dei prodotti della Geekom acquistati dal sito ufficiale dallo shop ufficiale che spedisce tranquillamente in Italia con garanzia assistenza a chi più ne ha più ne metta quindi se dovete acquistare un mini pc fateci un pensierino perché sono dei prodotti davvero ben fatti non lo dico io lo dico tanti di quegli esperti che nel corso degli anni hanno provato i prodotti di Geekom trovate tantissime recensioni su YouTube anche recensioni scritte sui siti quindi sono prodotti di qualità lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del Potecassi di Marcosbox ciao ciao